Bene, ho mandato un messaggio, dovrebbero arrivare a minuti. Sì, che bello! Dove ci sediamo? Ehm, beh, non saprei. Ah, perfetto, quel tizio ha finito, quindi possiamo metterci qui. Va bene, noi stiamo qui. Magari tu nasconditi dietro il bancone, noi facciamo l'introduzione e poi tu esci. Oh, eh, sì, certo. Mi sembra un'idea divertente. Di la verità, perché vuoi farla nascondere dietro il bancone? Beh, ecco, ho paura di come reagirebbero i miei amici e lo so che è difficile. So che è difficile, anch'io ci ho messo un po', ma sono sicura che gli altri saranno d'accordo su farla rientrare nel gruppo. Mh, va bene. Ciao ragazze! Oh, ciao Mark, sediti pure qua. Fra poco dovrebbero arrivare anche gli altri. Va bene, e poi ordiniamo. Mh, mh. Ehi là ragazzi! Ciao Sara! Qualche minuto dopo? Ciao ragazzi! Bene, l'una era l'ultima. Adesso vi spieghiamo un po' cosa è successo. Ok. Dai che siamo curiosi! Già, già. Ecco, abbiamo scoperto chi ha pubblicato l'articolo che Blair sta con un ragazzo. Ah sì, e chi è stato? È stata Blair stessa. Cosa? Ma, ma ne siete sicure? Sì, sì. L'ho pubblicato anche sul blog, non avete visto? Eh, no, io stavo studiando. Io stavo andando sullo skate. Io mi preparavo per venire qua. Insomma, stavamo facendo altro. Ma, ma come va? Ma, ma perché? Come sarebbe Blair stessa? Già, chi è che pubblica un articolo su se stesso? Beh, l'ha fatto perché, insomma, si trasferirà vicino alla sua ex. E aveva paura di, insomma, che lei è molto incollata, sa che lei vorrebbe tornare con lei. Insomma, l'ha fatto per te, Sara. Ah, ha inventato una scusa. Già, e così, mentre io ero nata ad ordinare in pasticceria, lei mi ha rubato il telefono e l'ha pubblicato. Ah, come avevamo visto da mio padre, non l'ha hackerato. L'ha fatto direttamente dal tuo telefono. Già. Ma come avete fatto a scoprirlo? Beh, è stato un merito di tutto di una persona. Che poi, e ora può uscire. Vieni fuori. Come una persona è qui? Sì, allora sarà un nostro amico. Sì, sicuramente. O una nostra amica, o un conoscente, non lo so. Una persona a cui abbiamo scoperto, grazie, dell'articolo. E... Betty! Ciao ragazzi, non c'è di che? Come mai sono rimasta a bocca aperta? Eh, ma perché, insomma, è una notizia un po' shock. Già, tu, insomma... Sì, lo so, ero passata dalla parte del male. Capisco il vostro shock. Ma ora sono... Lo lasciate stare. Sono stata andata dalla parte del bene e voglio tornare con voi. Infatti l'ho fatto per aiutare. Eh già, visto ragazzi, è da la nostra parte. Potete smettere di lasciare la bocca aperta. Potremmo parlare un secondo da soli con voi? Eh, certo. Ok, allora io vado a dormire. Tanto so quali sono i vostri gusti preferiti. Allora, diteci. Ma siete completamente impazzite ad ascoltare Betty? Già, come avete fatto a cascarci come polle? Argentina, che ci credi sempre proprio a tutti. Già, che sinceramente me lo aspettavo. Ma da te, Giulia, proprio no. Andiamo, è ovvio che è una scusa. Ma no, ragazzi. Ti giuro che è la verità. Oh sì, certo. E da cosa l'avete capito? Intanto, Sofia... Mmm, non mi sta male questo fiocco, effettivamente. Voglio farmi una foto e non mettere su Instagram. Ecco, vicino a questa pianta... Mmm, no, aspetta, c'è una notifica sul blog di Giulia. Guardiamola prima. Ah! Oh mamma mia, oh mamma mia, non ci posso credere. Capperi, adesso non posso più ricattare Betty. Sarà sicuramente tornata con i suoi amici. Che faccio? Devo parlare con Blair. Sì, risolveremo qualcosa insieme. Adesso la chiamo. Ah, perché non risponde? Intanto Blair. Bene, eccoci qui alla nuova casa. Finalmente è finita. Possiamo definitivamente viverci. E vai. Oh mio Dio, quanto è sporco qui per terra. Comunque ragazze, ora dovremmo fare delle scale. Non è che potreste portare qualcosa? Mmm, va bene. Ma io prendo quella più piccola. Eh, io prendo questa. Ok, gentilissimi. Eccoci, forza. Andiamo. Ok, arrivo. Arrivo. Tesoro, però noi stiamo andando su e abbiamo lasciato la macchina aperta. Non è che potresti fare da guardia. Va bene. Su dai, questa la porto io, eh. Torniamo subito, dopo lo farà qualcun altro. Va bene. Ah, che schifo di casa. Che schifo di vita. Vado a mangiarmi qualcosa alla pasticceria. Non ci posso credere. Ma quella è Blair in persona. Finalmente si sono trasferiti, eh. Ci vado subito a parlare. Continua. Ragazzi, finalmente la famiglia di Blair si è trasferita. Già. Perché lo dici con tutto questo entusiasmo? Oh, andiamo ragazzi, la vostra casa non è male. E come farà Blair quando una vicina così rompiscatole e soprattutto innamorata di lei? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao, un bacione. Ciao.